Nolleggiare la propria attività quando eseguete il parcheggio. Ma che mi dice questo? Me la spiego meglio. Poi andate in vacanza, prendete gli aerei. Cosa fate? Lasciate la macchina nel parcheggio dell'aeroporto. E la macchina sta lì per dieci giorni. Poi tornate nell'entrata e avete pagato cinque euro. E infine avete portato a casa. Magari a voi no. Ma qualcun altro, circa 25.000 persone in questo momento, non vuole lasciare la macchina lì. Ma vuole lasciare la macchina lì e che qualcuno la possa modeggiare mentre lui è in vacanza. Farci i suoi giri. Magari a voi non potrà incontrare i due dati in vacanza. E' venuto in vacanza in Italia e quindi arriva il parcheggio dell'aeroporto. Invece che erano un miliardo di euro alla Erzallavis, che costa un sacco. Arrivo lì e mi dico, ma che bella, c'è una panda, mi costa 3 euro al giorno. Ops, mai sì che c'è, ma vengo la panda, 3 euro al giorno. Per fare questo, è stata creata una piattaforma, che si chiama GetMyCar, che è una blockchain. Quindi, ecco, una testaforma, ma fatta con un blockchain. Quindi ho tutto il sistema anche veramente lì. Perché cosa fa la testaforma? Ti fa vedere le macchine che sono parteggiate in temporal. Tu la scegli prima di arrivare, la paghi prima di arrivare, la blocceti da un token, che è uno software più buon digitale, che qui non vi spiego la tecnica ma c'è. Arrivo, non devo fare altro che andare con il mio token, che guarda fino a quasi certo momento, tipo come si fa di una macchina a vento, sblocco la macchina e sblocco la macchina e l'ho già pagato. E il signore che ha lasciato la macchina a pagli, è nata porca e ha pagato dei soldi, magari non so se l'hai pagato il parcheggio, ma l'hai dato di tu. Chi ha preso la macchina e deve spendere 100 euro al giorno, che ho detto comunque perché la panda ne ha dato inizio, lo bloccento e metto di fare questo.